Una promessa mai mantenuta, quella dello spegnimento dell'inceneritore di Cremona, la seconda città più inquinata d'Europa, nonché prima in Italia, per livelli di particolato sottile. Lo dicono i numeri degli ultimi studi, tra cui quello dell'Agenzia Europea dell'Ambiente. Ma il rischio che l'impianto di Via degli Antichi Budri venga destinato ad accogliere i rifiuti speciali non solo del territorio cremonese, ma della bassa Lombardia, potrebbe non essere infondato. Non solo, tra i rifiuti speciali figurano anche quelli sanitari. Non sarebbe infatti ancora stata fatta chiarezza sulla parte proveniente da Codogno e destinata alla struttura di San Rocco. Dunque, differenziare prima per riacquistare dopo quello che è stato risparmiato rappresenterebbe un affare da 300.000 euro all'anno. Prima ci hanno fatto credere che il problema fossero le risorse per cui non si poteva spegnere l'inceneritore. In realtà le risorse c'erano prima e adesso non possiamo dire sicuramente che non ci sono le risorse con il PNRR. I cittadini hanno ben chiaro qual è il motivo per cui non si vuole spegnere l'inceneritore. Sono scelte politiche, anzi, più che politiche sono scelte finanziarie. Scelte che sicuramente vanno a vessare i cittadini sia dal punto di vista del degrado della città, sia dal punto di vista della salute, perché chiaramente mantenere l'inceneritore significa continuare ad inquinare l'aria, sia dal punto di vista della produzione dei rifiuti, perché l'inceneritore è un impianto rigido che ha bisogno di rifiuti, che quindi si devono continuare a produrre. E chiaramente siccome i cittadini cremonesi sono virtuosi, dove si vanno a prendere i rifiuti? I rifiuti arrivano da oltre provincia, anzi oltre regione. Un affare redditizio dunque, che però si rifletterebbe sulla qualità della vita dei cremonesi, che sembra così venire in secondo piano. Le polveri sottili, quindi l'inquinamento atmosferico, che sappiamo già essere certificato cancerogeno, è legato proprio anche alle demenze e quindi proprio ha riflette problemi cognitivi. D'altra parte questo se ne parlava già diverso tempo fa, legando proprio anche il livello di apprendimento che si abbassa con l'inquinamento dei nostri ragazzi.